Elena Sodano, responsabile di Casa Paese a Cicala, siamo qui al decimo premio Caposuvero a Gizzeria organizzato dalla locale Proloquo guidata da Giuseppina Fragale. Sì, è un premio per me molto importante perché dà valore a quello che è stato lo sforzo enorme che tutta l'equipe della Raggi ha fatto proprio per mettere in piedi Casa Paese. Casa Paese che è una struttura unica nel suo genere in Italia e in Europa perché fondamentalmente è stato realizzato un micro Paese all'interno del Borgo Amico delle Demenze di Cicala, Borgo divenuto Amico delle Demenze nel 2018. Casa Paese è una casa in cui fondamentalmente c'è il valore delle necessità che devono essere tutelate e rispettate da parte delle persone con demenza che possono vivere la loro vita nella maniera più tranquilla e più normale possibile perché l'obiettivo di Casa Paese così come tutto l'obiettivo della filosofia che la Raggi porta avanti appunto NAL 2006 è proprio quello di dare umanità e normalità alla vita delle persone con demenza.